Benvenuti in questo nuovo video sul canale, siamo in una nuova serie chiamata Fortnite in casa, siamo in compagna di Lollo, Artic, ma ci saranno tantissimi altri ospiti durante il corso della serie. Abbiamo preso spunto per questo video da un video che è stato fatto da Steph e Fiera, dai Ciuplayer su One Console, vi lascerò il loro video nella descrizione. Ma prima di andare avanti e parlarvi delle regole vi chiedo subito un pollicione in su, superiamo i 2500 like per un nuovo video settimana prossima, ne sarei davvero contentissimo grazie mille del vostro supporto. Le regole come sono? Noi saremo in una camera piena di giocattoli ed impersonificheremo ragazzi dei soldatini che al calare della notte si potranno muovere. Nelle loro mini stanze, nelle loro mini basi, saranno delle lampade che non appena si accenderanno diranno che noi ci potremo muovere. Quindi ragazzi vi lascio al video, vi lascio al loot, vi lascio alle mille chest che ci sono, leggendari, epiche, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo dentro il video. Bella. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Amici soldatini, non possiamo muoverci finché quella luce non si accende. Siete pronti? Io vi vedo che non siete pronti. Siete pronti? Non possiamo parlare, non posso muovere la bocca. È vero, è vero, non possiamo parlare. Lolo, 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 lolo. Raga si è acceso, possiamo andare, ci possiamo andare, finalmente è notte. Ok, ok, abbiamo quattro minuti da adesso ragazzi, eh, per prendere tutte le varie cose. Wuuu, che bello il rampino! Mamma mia ragazzi il rampino che spettacolo, eh. Allora, oh, ho già trovato cose veramente fighe. Voi come siete messi a roba? A roba? A roba? Come siete messi a roba? No, dicevo che mi dovevo ancora sgranchire, è stato tutto il giorno fermo. Ho dovuto guardare un ragno che mi guardava tutto il tempo. Ho trovato una shotgun e finalmente una pozione. Guarda. Che benissimo. Ciao, lolo. No, ragazzi, non ci si può ancora colpire, eh. Quanto vorrei ucciderti, Marcolino. Io non so dove siete, mi sono perso. Io stavo per prendere danno, considerate. Oh, ho trovato le mie quattro! Raga, ma c'è un due chest blu qua! Figo! Oh, caccia! Mamma mia, Marco, se ti picchio. Oh, mio Dio. Fortissimo il caccia. Fortissimo. Non è forte il caccia. Usa anche il pompa, Marci. È troppo forte. Raga, aiuto! Madonna, raga, scusate, mi sono dovuto... Mi sono dovuto mettere un attimo dal muro perché stavo... Cioè, vabbè, avete capito, insomma, quello. Mi piace stare al muro, Marci. Oh, è una trattata leggendaria! Mi ha fatto male da solo, Marci. Ecco, è stata una leggendaria. Mi sentite da dentro? Vediamo. È una ancora aperta. Oh, raga, ha trovato lo scaro. Light machine gun ho trovato. No, è fortissimo, è fortissimo, Marci. Sì? Quale, sì, è fortissimo. Sì, è fortissimo. Oh, ma qua c'è un batto di... Raga, ha trovato la mia arma preferita. È fatta. Cosa hai trovato? Ho trovato lo scaro, raga. Ho trovato lo scaro. No, è fortissimo. No, lo scaro è forte, ma mai quanto la minigun. Vabbè, grazie. E io la minigun... No, non la minigun, anche la light machine gun. Ma io la minigun ancora non l'ho trovata. Io ce l'ho, io ce l'ho la light machine gun, l'ho trovata. Ma qua... È leggendaria, Ale. Vi giuro, raga, io... Io sto trovando solo ceste epiche. Qua, qua ci sono solo ceste epiche. Sto malissimo. Bellissimo. Ma la cosa... Ma sei in alto, Marci. Eh sì, che sono un po' in alto adesso, se permetti. Ho preso 17 chest non comuni. Tu vuoi prendere 17 di danno? Sapete dove sono? Sono dove c'è scritto Fortnite Home. Ah, Fortnite in casa, sai? Volevo collegarmi sopra, mi son collegato al soffitto. Vabbè, scusate, raga, lo so che non si fa. Si può, eh. Sì, pure io lo scarro, eh, vai. Oh, yeah, boy. Ok, 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 bravo, Marci, Marci. Marci, sì. Al muro si può, però, vero? No, solo gli oggetti. E come faccio? Si può, è pieno di oggetti, sta stanza. Eh, ma qua non posso... Sono le misole, sono le librerie. Raga, voi non state vedendo assolutamente... Non mi sto aiutando... No! Non mi sto aiutando... Ma dove sei? Ragazzi, non vale così. Vi prego, non aprite l'inventario per vedere quanto ho perso di cuore, per favore. Stavo buttando giù un rampino. Metà fine, a caso. Allora, sono vicino al panino del burlone. Quanto manca? No, non so. Eh, mancano 30 secondi, raga. Oh, cazzo. Oddio, ragazzi, ho una corsa su incendaria! Sono 30 secondi? È vuota. Forse l'ho preso io, ti amici. No, ragazzi, siete... Ok, allora io voto nel mio posto preferito. Siete delle cacchine, siete. Qua, qua c'è qualcosa. È sul divano. LA MINIQUAR! LA MINIQUAR! LA MINIQUAR! LA MINIQUAR! Ma adesso, prima di avermi la leggendaria, ma cos'è? Oggi, ogni... Sì, lui, ogni episodio... Sembra questa cacchia di diga. Ma peraltro... Ragazzi, cioè, vi giuro... Queste chest qua sono nuove, però... Non l'ho mai viste. Qua c'è una... Ma ragazzi, ma voi siete passati di qua? Ci sono delle chest vuote, ma non avete preso quella leggendaria. Ho un altro scar. No, basta, Marci. Sono arricchissime. Ragazzi, 4 minuti e 09. Oh, si può cominciare a partire? Sì, oddio, qualche cosa, cosa c'è? Ma che è sta cosa, ragazzi? Ma perché c'è sto parkour, ragazzi? L'avete fatto voi? Allora, io salgo di qua. Ah, vedo tutto di qua. Ma sei tu, Marci? Ragazzi, ho vinto. Ho trovato un'altra minigun. Sì, vabbè, va. Basta, ma no. No, raga, mi son girato. Mi son girato. Non c'erano essere più di tre leggendari. Sa quanti assault rifle ho? No, 64. Cioè, si sarà baggata una cesta. Rifle mi uccide sempre. Rifle, proprio. Rifle. Rifle. Oh, ragazzi, ma che volete da me? Oddio, ma sono tutti là. Ah, io c'ho un contesto sui secondari. Ho trovato la light machine. Oh, il pump! Oddio! Oddio, ma è fortissimo. Stavo all'il pump! No! No, mi sta shottando. Raga, raga, sta andando. No! Ma che hai shottato? Oh, arti, cramer, c'è già una morte! Oh, mio Dio! Abba, sto dopo lì, il pump, raga! Mi hai fatto fuori una varia scandalosa. Non ho potuto neanche rispondere. Ma qua non c'è nessuno. C'è la cesta leggenda. Ah, l'hai già presa, Marci. No, Marci, adesso mi vendico. Eh, bravo. Voi te la banana, di fianco. Eccolo, dietro il divano! Ma Marci, Marci non ce lo sta cattando nessuno. Uuuuuh! Ma Marco c'è il pompa! Sì, ma non puoi, ma ragazzi! Ma, oh, ma Marco che ondeggia! Oh, Marci, no. No! Problema. Scusami, ma io posso insultare The Marci? Ah! Oh, ma siete giocati un attimo! Tutto pezzo di... Ti ho solo sciolto! Ma, chi sei? Basta, io posso fare un light machine gun. Non so, faccio. Aiuto! Aiuto! Aspetta, ce l'ho anch'io. Non mi hai fatto niente? Non mi hai fatto niente, perché c'è una regeneration, l'avevo appena preso. Ma che culo! Va bene. No, no, io devo trovare le Marche, basta. Dove sei? Hai la piscina, eh? Sei nella piscina, Marci, no? Cosa stai succedendo qui dietro? Perché sento un'altra minica. Lolli? Non capisco. No, 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 no! Oddio, ma c'era anche Artic la minica. No, 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 no! È illegale, il di marco è rotto. Oddio, oddio! Il di marco è rotto, il falso è fortissimo. Rotti? Oh, la madonna! Come hai fatto? Eh, ma adesso mi spawn kill. No, no, oddio, dove sei? Basta, mi levo, mi levo. Non so dove sei tu. Ragazzi, esito. Ah, ma c'è una confezione! Oh, cazzo! No, no, non lo scar, la light machine gun. Siamo amici, siamo amici. No, no! Non riesco a peccarti. No, 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 no. C'è, ha finito la light machine gun per colpa tua. Oh, no! Oddio! Oddio, Martin, che ha tre kill! Quanto ne è mai, Marco? Quanto ne è mai, Marco? Ha troppi cuori ancora. Ma non è stato liberato. Dove siete, raga? Oh, Ale, Mark. Marci hai un compito, devi uccidere DeMark. Ok? Vado, vado, tranquillo. Mi ho compito da morto per te questo. Sì, ma devo capire... Ok, ti posso dire dov'è? Sono un fantasma bravo. L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Grandi! No, ragazzi, no, no! Che bella quella roba! Ma quando vi arrivano le granate da sopra cosa fate voi di solito? Boah! Non lo so. Via! Oh, ce n'è uno sotto, ce n'è uno sotto. S'attento! Oh, l'hai visto, Mark? L'hai visto? No, no, no! Ce l'è pure dietro Oddio Oh Dio Marco è scenduto Ah ok wall shot Marci Marci attento dietro Oh mio Dio sta arrivando Marco Marco coalizione Marco coalizione Cosa coalizione? Con Marco? Per forza sei a 1 sei No ti devi vendicare Artic Eh lo vendico dopo Artic Gli vendicare l'onore Come dopo? Ragazzi ragazzi fermi Marci cosa c'è questo divisore? Intanto non mi puoi prendere Si che ti posso prendere Solo col caccia Ma state attenti che c'è un altro eh DeMarci che però è zitto zitto e sta vincendo il tutto E' bruttissimo che non arrivano DeMarco Vedo che stai sparando qualcosa ma non arriva niente Guarda che sei un curioso giocatore Dopo un po' si prendono tutti No mi sta lasciando Mi sta lasciando scusa? Marco dietro la scatola di fiammiferi Shiftato come uno schifo Aiutiiiiiii Aiutiiiiiii Ah ti ho preso eh Marco E vieni Marco Ma Marco è in pericolo Ah ma sei la Vieni Marco Oh mio Dio Vieni Lolli Lolliiii Attento Marco Lollino Uuuu Madonna hai ucciso Marco Ma mamma Io sono fuori quindi Vai 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 BOMBAAA Questa è infame Due a due ragazzi Vati in giro con la minica E adesso ragazzi So cazzo per suss Contro Lollo eh Eh? Ah è vero sono io contro Lollo Eh si è finito Ok Andiamo a capire dove è Lollo Attimi di silenzio cruciali Lolli è tatticissimo Non si può vedere Aspetta vado a cercarlo io va Ti faccio il fantasma suggeritore Allora lo vado a cercare ma non faccio il tp Quindi vediamo un po' dov'è Lolliiii Vediamo un po' Dov'è? È introvabile Dove sono andato? Allora io qua non mi posso buttare in alto Ok Non c'è Ok Ma è un giocattolino Secondo me preferisce sempre una seconda e mezza al divano Ok 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 Lolli Lolli Dove sei? Ah ok non mi ha trovato No ho fatto prendere paura Dove sei Lolli? È introvabile Non lo troviamo neanche noi Ah dovete tipparvi raga Noo facciamo No siamo dei fantasmi Leali Sì Tra i minuti No no non ci siamo lealti Dai Lolli dove sei? Esci No vieni tu qua Eh dimmi dove sei io vengo Sono sotto le scale Sotto le scale cosa vuol dire? Sotto le scale Ma le scale ma Ma dove sei qui? No Ma che stai combinando Lolli ma che fai? Adesso mi tipo raga mi tipo pure io No è veramente sotto le scale È veramente sotto le scale Sono tipo un fortino Un fortino Ma le scale sono sotto di qua raga Ma non Sì 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 giusto giusto Ma non si può già passare di qua Attento attento Lui è passato È lì sotto Ti vuole ammazzare attento Allora Allora L'hai spitragnata la grande Allora Allora Illegale Qua si sta spaccando il legno Mamma mia L'hai sfondato Oh cavolo L'hai sfondato Oh cavolo L'hai sfondato Oh cavolo Oh cavolo Questo è tesissimo sotto le scale E c'è un'ansia raga che Che è la metà Oh che ho trovato una cosa decente Oh niente Guarda ci sto messo proprio male Ok Devo trovare qualcos'altro Io fai schifo Lollo madonna Che camperone Anche di qua Guarda che non eccolo Che tecnica Uuuu Attenzione l'outplay Non se n'è accorto Marci No no se n'è accorto È partita l'assalto Non è partito È ripartita l'assalto Lollo Cosa sta facendo Marci Scusate È un esserignavo Oh mamma Ma non sei più qua Lollo Sei una merda Ti sta aspettando Oh mio Dio Non lo fare Marci Te lo dico da amico Ma stai zitto Eh scusa Sono un fantasma amico È amico del suo Mica amico Cazzo sei? Problemi tecnici Dai Marci esci No te ne stai scappando È preso pure danno È preso pure danno È preso pure danno È preso pure danno È schifo Lollo Ma sei invisibile sei Tu non capisci dove sono Dove sei? Non ti vedo ti giuro Ho capito dove sei Sei passato dentro le scale Sei andato dentro le scale Lo fai schifo Fai Ma d'acqua Ma Ale ti stai vedendo Sì sì Ma quanto lo stai trollando Dai vieni qua Lollo Io starei attento Marci Io starei molto attento Ma l'ho visto io Oh mamma Oh 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 Ah Sciolte Vince bene Mamma mia Marci è troppo lame Con la figa Ma schifo Si ma cazzo Ne avete messo due Raga ma te schifo Sei troppo lame Madonna Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Come i soldatini Sta per fare giorno Quindi dobbiamo andare Assoluto Torniamo a posto raga Per favore Si 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 Torniamo a posto raga Che poi La prossima notte Dobbiamo fare anche Il video per Artic Quindi muoviamoci per favore E ciao Ciao Comunque che bello